Mai investire contro gli Stati Uniti e la grande fortuna di Warren Buffett è stata proprio quella di essere nato negli Stati Uniti d'America. Il nostro nonno più famoso del mondo più volte ha parlato in questo modo, in questi termini, citando queste frasi, perché secondo lui una delle sue più grandi fortune è stata proprio quella di essere nato in America, perché non bisognerebbe mai investire contro l'America. Eppure Warren Buffett nell'ultimo meeting che c'è stato nelle scorse settimane ha dichiarato di avere circa 140 miliardi più o meno ragazzi, ora miliardo in più, miliardo in meno, non penso cambi qualcosa, ancora in liquidità e da investire completamente nel mercato azionario, perché ha dichiarato in maniera chiara e netta non ha trovato nessuna occasione di acquisto. Ma come? I mercati non erano scesi, non erano andati down, sì, però poi abbiamo visto che sono saliti anche notevolmente grazie alla quantitative easing messo in moto dalla Federal Reserve, che a proposito ragazzi è la banca che ha immesso più liquidità di tutti, mentre noi, come sempre, nella nostra dolce Europa abbiamo fallito totalmente quest'altro appuntamento, non a causa dell'Italia che invece ha avuto un atteggiamento assolutamente corretto, ma lo vedremo magari in qualche altro video, ma a causa dei soliti paesi e di questa nostra unione, tra virgolette, veramente diventata un po' barzelletta del mondo. Chiusa parentesi. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi un appuntamento importantissimo con l'analisi dei mercati azionari classici, perché andremo a studiare un modello su come calcolare se i mercati azionari sono a sconto o meno. Ebbene sì, ho preso e citato Warren Buffett proprio perché il suo dilemma in questo momento, è un po' il dilemma di tutti quelli che sono investitori come me da un sacco di anni e deve sapere quando è il momento giusto di entrare sui mercati finanziari e soprattutto come dividere il proprio asset, ragazzi, perché una cosa è investire 1.000-2.000 euro, ve lo assicuro, una cosa è investirne centinaia di migliaia o addirittura milioni, cambia completamente l'approccio e vi assicuro non è facile andare ad agire senza avere dati, perciò esistono dei modelli che noi possiamo utilizzare per capire numericamente se effettivamente il mercato azionario in questo momento è veramente così caro, come dice il nostro nonno più famoso del mondo, chiaramente ragazzi, difficile che Warren Buffett sbagli, quindi però in questo video andiamo a vedere come si fa a calcolarlo e vi insegnerò questo metodo semplicissimo anche per stra-principianti, ragazzi, per capire se andare a investire sull'S&P 500 americano, che è l'indice più diversificato del faro, quello più semplice, che anche lo stesso Buffett ha sempre detto, investite sull'S&P 500 se non sapete cosa fare, andiamo però a creare questo modello, vi spiego come ci sono arrivato e tutte le cose che dovete fare, ma potete farlo voi ragazzi perché vi assicuro l'ho reso semplicissimo e andremo a vedere quando un mercato è conveniente o meno e in questo momento a che punto siamo con l'S&P 500, conviene o meno entrare su questo mercato e soprattutto se non conviene, perché? Bene, ma prima di andare nel vivo di questo video e vedere tutti i grafici, vi ho anche creato una super tabella di Excel dove fare tutti questi movimenti, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, e di darmi un pollicione in su per questi video che sono di grandissima utilità per tutti gli investitori, immediati, veloci, semplici, quindi ragazzi fatemi capire se vi piacciono questi video lasciandomi un mi piace, ma soprattutto e come sempre, fatemi sapere anche cosa ne pensate voi delle conclusioni a cui arriveremo e cosa state facendo voi con la vostra asset allocation. Bene, iniziamo dalle nostre chiavi inglesi, dai ferri del mestiere, cosa utilizzeremo? Ragazzi, come rascio di questo video, la semplicità sarà la nostra mission e quindi inutile andare a dirvi che ci sono diversi modi per calcolare se entrare sui mercati finanziari, mercati azionali può essere conveniente o meno, ci sono diversi modi per farlo, ma noi qui cerchiamo di utilizzare il più semplice, perché questo è un video che deve essere utilizzabile da tutti, quindi ho deciso di utilizzare l'indicatore di analisi fondamentale più comune e più semplice che è il Price Ernest, il famoso P.E. Chi di voi non sapesse cos'è il P.E., ragazzi, è semplicemente un numero statistico che si ottiene dividendo il prezzo di un titolo azionario, in questo caso un indice per i suoi utili. In questo caso si ottiene un indicatore e questo indicatore, ragazzi, è utilizzato nella storia degli investimenti sui mercati azionari da anni e anni e anni, centinaia di anni proprio, ragazzi, assolutamente così, quindi è un indicatore sicuramente significativo e robusto perché lo usiamo da tantissimi anni, però ha anche delle, insomma, diverse pecche che non stiamo qui a spiegare, ragazzi, perché non ha senso in questo video, ma che quando viene utilizzato sugli indici, quindi in questo caso noi lo useremo appunto su un indice S&P 500, queste sue peculiarità, questi suoi difetti vengono un po' meno, ragazzi, perché l'indice è diversificato e quindi è giusto e si può considerare il P.E. come un indicatore di momentum e dire, benissimo, il P.E. è basso, il mercato è conveniente, il P.E. è alto, il mercato non è conveniente. Fatta questa premessa e queste spiegazioni, adesso ci andiamo a calcolare il price earnings dell'S&P 500, vediamo dove trovarlo e vediamo anche come modificarlo, ragazzi, per il futuro. E sì, perché ricordatevi sempre che le borse, ragazzi, non si basano sui dati passati, bensì sui dati futuri, quelli che devono arrivare. E sì, appunto, quello è il grave problema, ma lo vedremo tra poco, a metà video circa, quando vi parlerò di un metodo per stimare i dati futuri, ragazzi, ma spostiamoci sui grafici e questa volta il grafico, ragazzi, è quello dello Standard & Poor's 500 Price Earnings Ratio. Allora, ragazzi, questo che vedete, sinceramente non so se questo è un errore, ragazzi, nel sito, perché non sono andato ad approfondire, ma non mi interessava, devo essere sincero, perché mi interessa solo l'ultimo valore, quindi lo considero un errore questo qui, ragazzi. Ma, allora, questo è il grafico che vedete relativamente al Price Earnings dell'S&P 500 dal 1880 fino ai giorni nostri, ragazzi. Allora, quello che si può notare intanto, ragazzi, come la media dell'S&P 500 sia sempre stata quella di un PA intorno ai 15, vedete, perché questo è il suo livello medio. Ma è anche vero che negli ultimi anni, con le manovre di politica monetaria differenti, tutto sta un po' cambiando, ma lo considereremo anche questo, ragazzi. In effetti, nel sito in questione, che vi lascio in descrizione, ragazzi, c'è anche il calcolo dei minimi, dei massimi e della media. Vi ripeto, non so se questi livelli del 2009 sono corretti, perché mi interessava avere questo, ragazzi, valore, che era la media. E poi andarvi anche a dire che nella storicità dell'S&P 500 va bene considerare un po' la sua media, però, ragazzi, diventa un po' mio per andare a guardare dati del 1880, perché il nostro sistema economico e la nostra politica monetaria non è certamente quella di quegli anni. Perciò io direi, ragazzi, se è anche vero che la media dell'S&P 500 è intorno ai 15-16, direi di considerare un price earnings come spartiacque, come livello che ci può indicare se i mercati sono sovracuotati o sottocuotati intorno ai 19-20, perché è quello più adatto, secondo me, ragazzi, a questo che è l'attuale momento di politica monetaria e di storicità della nostra economia. La spiegazione è molto semplice per chi di voi avesse ancora un po' di confusione. Se i mercati dimostrano e hanno un price earnings sopra i 20, in questo caso 19-20, sono tecnicamente cari, ragazzi. È come comprare una mela e pagarla 2 euro a singolo pezzo. Se invece sono sotto 19-20, più o meno quello che stiamo indicando in maniera qualitativa, come una stima qualitativa, allora si possono definire economici. Significa che tecnicamente hanno un prezzo un po' più basso di quello che è la loro media negli ultimi anni. Detto questo, bisogna a questo punto andare a calcolarci qual è il PE in questo momento dello Standard & Poor's 500 e poi fare un giochino, ragazzi, cioè quello di andare a stimare quelli che sono gli earnings futuri del SP500 per capire se gli attuali prezzi dell'indice sono da considerare cari o meno. Quindi ci rispostiamo sui grafici, ma questa volta è una tabella Excel che vi ho compilato e che vi fa capire in maniera molto chiara quello che sto dicendo. Molto più facile da vedere, ragazzi, piuttosto che da spiegare. Allora, andiamo intanto sull'anno 2019, ragazzi. Gli earnings sono indicati come 140. Vi ho fatto lo scorporo dei livelli in maniera tale da averli già indicati, ragazzi, perché vi ho spiegato Price Earnings è una semplice divisione. Vedete, queste sono le indicazioni per quanto riguarda gli earnings. Questo è il prezzo che l'1 gennaio del 2020 il SP500 aveva, quindi 3.221 prima della crisi, portava un PE, ragazzi, di 23. Quindi nello scorso anno, nel 2019, a chiusura dell'anno 2019, il Price Earnings dello Standard Pulse 500 è stato di 23, ragazzi. Quindi un po' caro rispetto a questi 19,20 che vi sto dicendo, ma in media il 10% in più. Ecco, diciamo così, più caro del 10%, perché magari si scontava un rialzo degli utili nell'anno 2020. Rialzo degli utili che ovviamente non c'è stato. Ma, ragazzi, qual è la variabile vera che noi adesso dobbiamo andare a calcolarci? E' questa qui, cioè gli earnings. Noi dobbiamo andare a cercare di capire quanto questi earnings che vediamo qui, nell'anno 2020, si ridurranno. Perché noi sappiamo che è arrivata la crisi del Covid, della pandemia. Quindi in questo momento, pensare che nel 2020, le aziende che compongono il SP500 abbiano gli stessi utili, è follia, lo sapete, ragazzi, anche perché il primo trimestre è già uscito, i dati sono crollati del 10-12%, e sappiamo anche che il primo trimestre dell'anno 2020 è quello positivo, perché il secondo trimestre sarà terribile, ragazzi, cioè quello che subisce di più l'impatto della crisi, quindi aprile, maggio, giugno. Poi probabilmente, magari, ci sarà una fuoriuscita nel Q3, si dice così, il trimestre 3, ma non del tutto. Quindi comunque, in ogni caso, ragazzi, il peggio deve ancora venire, ma ovviamente questo è già scontato dai mercati. Attenzione, ragazzi, a pensare che i mercati non si siano accorti di quello che vi sto dicendo io, non lo sanno già. Dobbiamo andare a fare un esercizio, prendere questi earnings, e andarli a ridurre di un tasso di riduzione che possiamo calcolarci in maniera differente. Allora, io l'ho calcolato intorno al 20%, ragazzi, perché ci sono diversi modi di fare un calcolo del genere, ma entriamo nella matematica quantitativa, analisi quantitativa dei dati è troppo complicato. Però, ragazzi, esiste un modo che poi, banalmente, tutto sommato, è semplicistico, ma tutto sommato anche realistico. Abbiamo visto il primo trimestre dell'anno 2020, la riduzione degli earnings è stata intorno all'11%, questi sono dati che potete trovare in rete in maniera chiara. Il peggio deve ancora venire, basta aprire gli occhi e non ci vuole molto comprendere che gli utili delle aziende americane, in questo caso del trimestre aprile-maggio-giugno e luglio-agosto-settembre, saranno molto basse rispetto a questi primi tre mesi che ancora l'economia era forte, soprattutto non aveva subito l'impatto del Covid. Perciò, ragazzi, anche stimando un'uscita dalla crisi nell'ultimo trimestre, anche stimando una fuoriuscita, noi dovremmo stimare una riduzione degli earnings, comunque, ragazzi, intorno al 20%, minimo, ma potrebbe essere anche leggermente di più, questo si vedrà tra poco, ragazzi. Quindi, cosa ho fatto? Semplicemente ho preso questo dato, vedete, e questo è il mio valore degli earnings stimati, e questo dato è ridotto del 20%. Il price, invece, qual è? Il price è il prezzo dello Standard & Poor's 500 al giorno in cui sto girando questo video, quindi a maggio, ragazzi, 13 maggio del 2020. Nel momento in cui io prendo il prezzo dell'S&P 500, lo divido, faccio prezzo diviso earnings, questo valore, diviso questo valore qui, e ottengo il mio P.E. stimato per l'anno 2020. Cioè, per la fine dell'anno, ragazzi, non per dove siamo ora. Questo P.E. in questo momento è di 25.63. Se la mia stima degli earnings, quindi questa riduzione del 20%, è corretta, ragazzi. Quindi, adesso la domanda dovrei farla io a voi. Questo Price Earnings cosa ci dice? Ci dice che investire oggi sul mercato americano con questi prezzi, comprando l'S&P 500, è caro. Quindi stiamo comprando a prezzi cari. Il Warren Buffett, nonno Warren, aveva ragione, ragazzi, ma lo sapevamo, era impossibile che avesse torto su queste cose, ci mancherebbe, ma abbiamo capito perché aveva ragione il nostro Buffett. E adesso chiediamoci un po' di cose, poi facciamo anche un po' di stime, ragazzi, perché ci interessa sapere qual è il giusto prezzo di S&P 500, dove comprare, non sarebbe poi così tanto male, ragazzi. E vedremo pure che c'è un giochino, insomma, che vi lascerà un po' di stucco. Bene, ragazzi, allora questo Price Earnings serve a indicarci quello che compriamo, ce lo paghiamo tanto meno, però c'è anche da dire, ragazzi, che il mercato americano potrebbe stare fermo su questi prezzi 2008 più o meno per cosa? Per tutto l'anno, magari arrivare al 2021 questi prezzi e a quel punto magari i nuovi earnings, ragazzi, per il 2022 magari saranno 2021, 2022 saranno magari maggiorati e quindi non sarà più questa cifra di 120 ma sarà un incremento addirittura, quindi qui dovremmo metterci un segno negativo, ragazzi, e magari in questo caso questi attuali prezzi per l'anno che verrà, se gli utili magari nel 2021 saranno il 20% superiori a quelli del 2019 agli attuali prezzi, ragazzi, il PE sarebbe economico, quindi il mercato addirittura si è portato avanti di un anno, ma ragazzi agli attuali livelli di prezzo il mercato è caro e lo sarà probabilmente fino alla fine dell'anno se questi prezzi non scendono, ma questo ci dà anche un'idea molto importante operativa se i prezzi di mercato scendono potrebbero darci dei livelli di ingresso che se questa situazione del covid sparisse e il learning scat che ho considerato io del 20% degli utili è tutto sommato attendibile, non abbiamo una ripercussione grave sui mercati con fallimenti a catena eccetera eccetera allora ragazzi anche un prezzo perché no vedete di 2004 ci porterebbe a un PA intorno a 20 che considerando anche il fatto che probabilmente nel 2021 ci sarà una buona ripresa ragazzi vi spiego anche perché tra poco beh potrebbe essere tutto sommato un buon prezzo di acquisto ma lo sapete qual era il prezzo di acquisto che ci faceva scendere per l'anno 2020 sotto il 20% 2002 ragazzi e facciamo un bel esercizio guardiamo una cosa ragazzi qual è stato il minimo di SP nel vi prendo l'indice ragazzi ok qual è stato il minimo di SP nel 2020 sapete qual è stato 2190 esattamente quando il mercato nel 2020 ha toccato i 2002 è tornato a salire un po' per il QE della Federal Reserve ragazzi chiaramente c'è lo suo zampino un po' perché questi dati probabilmente qualche istituzionale qualche hedge fund beh li aveva già calcolati ragazzi e quindi ha visto un PE scendere a quei livelli e il quantitative easing messo dalla Federal Reserve ha detto ma io compro perché la Fed sosterrà i mercati e soprattutto con un cut del 20% sono su una media di prezzo accettabile e quindi potrebbe essere accettabile anche questo acquisto qualcuno se ne è accorto ma a fette no stranamente quest'anno ragazzi forse sta invecchiando ma d'altronde ha più di 90 anni insomma comunque va bene ragazzi no in realtà lui aveva comprato se vi ricordate ma ha sbagliato lo stock picking in questo caso perché ha comprato le compagnie aeree e l'ha anche dichiarato questa volta ha sbagliato proprio a comprare bene ragazzi allora vi ho indicato quello che è un modello per calcolarvi quando e come un mercato azionario è economico lo so sono un po' di numeri ho cercato di renderlo più semplice possibile ovviamente ragazzi ho semplificato tante cose questa è una piccolo dito una mano diciamo così di uno dei miei modelli che utilizzo per fare asset location dei miei portafogli di investimento questa è una piccola chicca che volevo regalare a tutta la community trading on fatemi sapere quello che pensate anche voi su questi numeri e se effettivamente queste considerazioni vi hanno dato una mano possono essere stravalide per i vostri investimenti relativi a questo mercato bene ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video che dire ciao a tutti